Piazza Sant'Agostino, un punto nevralgico della sabato sera cittadino ad Arezzo. La piazza era piena di persone sabato sera quando si sarebbe verificato uno scontro tra due giovani con arma bianca. La peggio è toccata ad un 24enne che è rimasto a terra colpito da numerose coltellate certamente bottigliate. I tagli, tranne quello dovuto ad un colpo inferto al petto, sono stati abbastanza per fortuna superficiali. Il giovane è stato portato al pronto soccorso in codice giallo, rimane da capire il punto esatto dello scontro. Il ferito infatti è stato ritrovato sanguinante in piazza Sant'Agostino dai soccorritori ma l'aggressione potrebbe essersi verificata altrove, anche se poco lontano. All'arrivo degli operatori della 118 l'uomo era riverso a terra al centro della piazza completamente ricoperto di sangue. Ha riferito di essere stato aggredito dall'avversario con una lunga lama e con una bottiglia di vetro. In particolare la ragazza aveva ferite al volto compatibili con quelle procurate da una bottigliata. Aveva poi evidenti segni vicino all'occhio e della naso rotto. All'appetto la lacerazione più profonda, forse da coltello o da collo di bottiglia, gli altri tagli al volto, al tronco e soprattutto alle braccia ma poco profondi. L'allarme alla centrale della 118 è partito poco prima della mezzanotte. Si è dovuto muovere però la misericordia di Subbiano per l'intervento per la indisponibilità di altri mezzi di soccorso ad Arezzo visto l'alto numero di interventi notturni richiesti. Sull'opposto per le indagini la polizia di stato della questura di Arezzo. Gli agenti della questura hanno raccolto le testimonianze tra cui quella della 34enne per risalire all'identità dell'aggressore dileguatosi dopo l'allarme. Plausibile che una delle piste per spiegare l'accaduto sia legata al mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti. La presenza dei poliziotti di Arezzo è stata richiesta anche più tardi in pronto soccorso al momento dell'arrivo della 24enne in evidente stato di alterazione psicofisica. L'uomo giunto con l'ambulanza infermierizzata alla San Donato è stato infatti protagonista di varie intemperanze che hanno messo in serie difficoltà il personale sanitario che doveva medicare il ferito e soprattutto suturare con i punti la ferita al petto.